Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo pioggia sul tratto appenninico della 1 e più a sud tra Chiusi e Ceprano, localmente piogge sparse anche su altre zone della Toscana. Ricordiamo i provvedimenti di mobilità in occasione della terza tappa del Giro d'Italia in Toscana. Domani, 13 maggio, la tappa partirà da Vinci e arriverà fino a Orbetello. Previste modifiche alla circolazione, chiusure e provvedimenti relativi al trasporto pubblico locale, alla partenza, lungo il tragitto e all'arrivo, tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, da domani 13 maggio fino a sabato 18 lavori notturni di asfaltatura in via Palazzo dei Diavoli. In orario 21.6 il tratto da Piazza Batoni a via Bronzino sarà chiuso. Muoversi in Toscana Infio, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!